Giunta la decima edizione, torna la rassegna dei prodotti tipici camplesi e festa delle fregnacce, piatto tipico locale ed elemento identificativo per la comunità di Campli. All'insegna della buona e sana cucina, la Kermess gastronomica offrirà l'occasione di degustare i prodotti tipici locali a chilometro zero come primi piatti a base di fregnacce, appunto condite con semplice sugo fresco o in bianco con cacio e pepe, inoltre a rossicini, salsicce, fritti misti e tarallucci con vino cotto della zona. Tre anni fa circa abbiamo rilanciato questo piatto della cucina povera nei nostri luoghi, un piatto che era quasi sparito dalle nostre tavole e io l'ho riproposto durante uno show cooking, ho avuto pure l'ardire di fare le fregnacce in piazza e quindi sono particolarmente grata a questa associazione che poi ha preso questo piatto e l'ha riportato in auge attraverso la sagra. Abbiamo puntato su questa specialità culinaria perché abbiamo riscontrato un successo abbastanza grande, ecco. Oltre a queste fregnacce che li facciamo di due tipi praticamente, rosse con il pomodoro e basilico semplici e bianco e cacio e pepe con alcuni altri ingredienti che sono dei segreti delle nostre cuoche che rifanno proprio esclusivamente con le loro mani in produzione specifica nostra. La manifestazione enogastronomica è prevista nella piazza centrale della località La Traversa di Campli organizzata dall'associazione La Traversa Insieme con il patrocinio del Comune di Campli. Alcuni giorni quindi molto importanti per tutto il Comune di Campli, quindi invito tutti a partecipare. Ringrazio l'associazione e tutti gli sponsor che hanno permesso e permettono appunto questa iniziativa che si ripete negli anni. L'iniziativa si concluderà poi la domenica con una camminata e con la passeggiata in bici grazie a Monti Gemelli Bike, quindi alcuni giorni veramente importanti per il nostro territorio.